E intanto continuiamo il nostro viaggio pucciniano, lo facciamo con un altro brano. Si tratta di una marcetta brillante, dal titolo Scossa elettrica, che fu scritta dal maestro Pucini in occasione del centenario dell'invenzione della pila d'opera di Alessandro Volta. Questo lavoro è un lavoro di breve durata, dal carattere leggero ma anche un po' ironico. Lo scrisse per pianoforte ma fu lui stesso a chiedere che fosse strumentato poi per banda. E questa sera il maestro Pucini non potrebbe trovare interprete migliore della banda dell'esercito italiano diretta dal maestro Cre. Ascoltiamo Scossa elettrica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.